Siccome Nonna Maria ha tantissimi libri della chiesa, ho chiamato una persona a fare il firmacopie perché ci tenevo veramente, guardate. Ma che c'è il suo stesso? Ma che c'è il suo stesso? Il firmacopie! Ma devo fermare! Il firmacopie! Anche questo! Non c'è il suo stesso! 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 Ma sono Gesù! No, Gesù è questo! È l'amore mio! Vedi, stanno a fare le filine! C'è il suo stesso! Ma non, Gabriele! Quella è che il suo stesso! Gabriele! 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 Chega! Gabriele! Chega! Chega! è che su su la terra vai via vai via no no il Papa vai via il Papa il Papa è che su sulla terra questo eh scelta i decogliosi come quella vecchia come va se non è dentro